questa mi piace dai soffarti allora no vorrei dire no io avevo paura che i nessi fossero in finita come un vivere è perché il vivere della reggiana volevo dire tornando alla sanità che anche i dottori in un po' di casinista devono stare tanti come Perlin perché gli presenti la Fiat la fabbrica che la fa solo l'ampassero vendono un milione di macchine beh la fabbrica l'era di un certo guzzi dopo una volta l'entrata dal dottore gli ha detto di fare dal moto la vendono la fabbrica e anche quando Perlin per esempio quando una donna comincia a avere una certa tecla comincia a avere un problema ha detto ha lasciato meno pausa casomai la sarà più pausa o meno risa bisogna che in Perlin parli a dire il parto alziamo in parto quando il Putin arriva ma il parto non è mai spremi ma quello è l'arrivo bisogna che imparano a parlare e poi quando avremo più tempo vi farò una conferenza con Alpianti, Alchevi, Alprovisori gli usci e gli entri che vi indecco l'ora per dire mia moglie l'altra sera ha detto sa che è in dipela ha le babbucce con le tette ma poi le mammucce che le babbucce in Almece e i Putin smattene le figliucce questo è un po' il lavoro che vi spiego un'altra volta sai io o mia che l'ho le stiamo molto fino a dei anni perché cos'è che da sapere la dimondica da recuperare allora volevo dire anche un'altra cosa mi piace fare un lavoro un po' fenomenale tipo come fanno i nomadi no? chi vuole fare dei suggerimenti per esempio in piquet o roba se no? puoi scrivere un bigliettino le porte che insieme al PEC non è per chi ha un po' presenza qui che si infregano suggerimenti e consigli indirizzati a Uberto critiche sgridate offeso a Franco richieste dichiarazioni a me solo femmine per piacere portami anche dal multio dal bulletti del gas o della telecom che è un bel al nostro tornando allo stress una delle cause principali del stress è la frenesia la smagna le cori che compra la borsa della spesa eccetera e non è per spiegare come può nascere la frenesia io ho fatto una canzone sui supermercati la sciama supermarkette pacca mano dopo le tre mesi di spettacolo facciamo gire vuoi tendere a lavorare ma teina no? la seconda la seconda shopping supermarkette supermarkette non basta con queste coppe mercatoni con questi sidis con questi sigma con questi center commerci è un lavoro da miei normei sono la resi in quatercenti più l'or che i socriei e la stanza è lì per copp oramai in finta e troppo superare nord e miglia rinascente e meridiana porca aca et la putana con de tot a d'argia i pè prendi tre paghi due leu lavori insensè quant pagheva per tri a mi sei per ciave sumi a sì però sta volta io sbaglio a voi manierna trota longa che però pescada da me a voi manierna dei sritti durong però rubei su padron a voi un gat che al ciapa dirà e mi a comprare del kitecat Grazie a tutti 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 Grazie a tutti